Musica, giovani speranze e il ritrovato contatto con il pubblico. Sono questi gli ingredienti del premio Plachi 2021 che da domani a domenica 19 settembre e dal 24 al 26 settembre terrà banco a Gravina di Catania. Una manifestazione voluta dall'amministrazione comunale gravinese e diretta dal maestro Paolo Lirosi da sempre punto di riferimento per gli artisti emergenti siciliani. Sì, è proprio così, un'altra occasione soprattutto per i giovani perché comunque diciamo che tantissimi anche concorsi negli ultimi anni si sono un po' bloccati, sono un po' congelati. Noi ovviamente qui in Sicilia proviamo sempre a dare spazio magari a quei ragazzi molto bravi, talentuosi che a volte provano soltanto a spostarsi alla Sicilia avendo anche delle spese importanti. Invece grazie al comune di Gravina con il premio Plachi 2021 proveremo in tutti i modi a dare uno spazio davvero bello perché all'interno ovviamente dell'anfiteatro Turi Ferro che è uno scenario davvero molto suggestivo ma sarà anche un'occasione perché ci sanno dei giurati di prestigio nazionale, non solo, grazie a Di Michele aprirà ovviamente la Garmessi giorno 17 e in conclusione con Attilio Fontana ma tantissimi altri amici, Tony Ranno, Salvo Finocchiaro, insomma tantissimi altri che ci daranno una grande mano per valutare i ragazzi in modo obiettivo infatti daremo 10 minuti ad i ragazzi quindi avranno due brani a disposizione quindi è un po' un festival un attimino diverso dai soliti ma i premi sono anche molto importanti perché grazie alle mie collaborazioni con Cantagiro e avremo anche la vincitrice di questo 2021 nella categoria junior che è una ragazzina di Comisoli in provincia di Ragusa daremo anche dei premi legati anche a Torpedinerie che è un evento coniato appunto dallo stesso Michele Torpedine, il Cantagiro metterà ovviamente la parte legata alle finali per i premi della categoria cover insomma ci sono tanti premi importanti che soprattutto daranno delle opportunità nell'opportunità quindi speriamo sicuramente di avere anche un pubblico ben caloroso per i nostri ragazzi e incrociamo le dita perché questo deve essere soltanto un inizio, il Premo Plachi ovviamente non deve fermarsi a quest'anno A condurre l'evento l'attore Sandro Vergato che terrà il fil rouge della manifestazione con la consueta carica di simpatia e freschezza Noi siamo felicissimi che torniamo sul palco, chiaramente la musica è un pretesto, la musica è il suono con il quale Dio ha inventato l'universo per cui la musica è magia e anche in questo caso è un'occasione per stare di nuovo insieme e divertirci quindi ovviamente essendoci io non mancherà l'allegria perché approfitterò di qua, speriamo che non ci saranno ovviamente perdite di tempo però qualora ci fossero ne approfitterò per improvvisare, coinvolgere il pubblico, divertirci perché questa è nella mia indole per cui non posso non farlo e poi soprattutto è un'occasione per Grevina per accendere i riflettori su questa bellissima città e poi dare la possibilità e questa credo che sia la mission più importante di questa occasione dare la possibilità ai giovani di farsi conoscere, infatti ci sono queste tre categorie, cover, inediti e gruppi che danno la possibilità a tutti i ragazzi finalmente di avere un palco, un'occasione per così ci siamo pure noi, è importante Guarda il maestro Paolo Lirosi è quanto di meglio ci può essere in Sicilia perché è da anni che ha un'esperienza straordinaria in questo settore grazie a lui tanti ragazzi e tante giovani promesse sono arrivati alla ribalta nazionale per cui siamo sicuramente in buone mani, la direzione artistica non poteva essere migliore e quindi grazie a lui, grazie all'assessore Marco Antonio, grazie al sindaco e tutta l'amministrazione naturalmente che hanno creduto a questa nuova iniziativa e speriamo che si farà sentire anche nel corso degli anni Sei giornate di musica nella cornice dell'anfiteatro Turi Ferro Parco Borsellino si comincia domani con la categoria cover, sabato e domenica sarà invece rispettivamente il turno degli inediti e delle band sotto l'attento sguardo alla presidente di giuria Grazia Di Michele fasi finali e finalissime invece si disputeranno tra il 24 e il 26 settembre quando sarà Attilio Fontana a presiedere il collegio giudicante l'assessore al turismo, sport e spettacolo Franco Marco Antonio e il sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Gianmusso sottolineano lo spirito con il quale la cittadina etnea accoglie e supporta la manifestazione E' un fantastico evento che non blocchiamo perché abbiamo raggiunto causa pandemia dentro l'anfiteatro un accordo per 400 posti a sedere distanziati naturalmente grazie al Green Pass e chi si fa il tampone delle 48 ore può entrare benissimo a 400 ci doveva fermare perciò il Festival del Bire si deve stoppare perché non era per 400 posti ma era molto di più e la responsabilità aumentava Allora dico che insieme a Paolo Riosi direttore artistico noi ci stiamo scommettendo di nuovo su questo festival che è la prima edizione del 2021 qua a Gravina di Catania con ospite d'onore stasera ci sarà Grazia Di Michele insieme all'amico Toniranno e Salvuccio Finocchiaro che faranno da giuria domani per gli artisti singoli per le cover che faranno e saranno giudicate e portate avanti il 26 di settembre e poi si vedrà chi vince perché ci saranno gruppi e cose insomma sarà un bel festival veramente Abbiamo avuto un'estate con diverse manifestazioni importanti anche con diversi ospiti di primo livello come Riccardo Fogli, Michele Zerrillo, Salvola Rosa e Litterio Vincenzo Spampinato e tanti altri rassegni importanti come quella teatrale Sicilia Bedda Adesso arriviamo al premio Liplachi che ci caratterizza particolarmente perché nell'ottica di rilanciare la nostra identità cittadina cosa che per noi come amministrazione è assolutamente fondamentale avere un premio dedicato a giovani talenti locali che vogliono emergere e cui l'amministrazione comunale prova a dare una mano anche attraverso questo premio per noi è particolarmente caratterizzante quindi siamo liati di dare una possibilità ai talenti locali di poter mettersi in evidenza